raga che ospite che ospite raga mamma mia mamma mia che ospite ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video di milan inside fibrillazione oggi raga fibrillazione questo video per presentarvi l'ospite che sarà presente stasera milan inside the talk raga ma livelli livelli altissimi prima di cominciare di dirvi chi è lasciate gentilmente mi piace al video iscrivetevi al canale attivate la campanellina in descrizione tutti i link dei profili social di milan inside il mio personale per avere tutte le notizie del milan il sito internet www.ac milaninside.com raga che ospite che ospite raga allora vi do prima qualche indizio poi vi dico chi è vediamo se nel frattempo capite allora lui è un signore è un giovanotto di 66 anni milanista doc famoso per il suo famosissimo per il suo mestiere che è riuscito ad integrare anche nel mondo del calcio o meglio nel mondo del pallone così vi do vi comincio a dare qualche indizio a 66 anni raga ma per la freschezza la per le sue qualità raga ne dimostra anzi ha detto di sentirse ne 36 così vi do un altro indizio raga milanista che allora non so se vi ricordate quando anni fa in televisione facevano i derby del cuore milan inter lui ha praticamente sempre giocato nel milan ogni anno tanto che a un certo punto ci è diventato pure capina è un capitano è diventato capitano del milan squadra del cuore mamma mia mamma mia un altro indizio che vi do raga questo è un po più quelli più un po più ragazzi gli intenditori degli intenditori del linguaggio del gaming spesso si usa l'acronimo gg che sta per good game ma oggi gg questo acronimo lo possiamo usare per il nostro ospite perché corrisponde al nome e cognome raga mamma mia questo è un colpo raga top proprio un ospite di primo livello quale altro indizio vi posso dare diciamo che la sua rubrica calcistica allora ha un appuntamento fisso con un quotidiano famoso sportivo in italia è stato la sua rubrica calcistica è stata diciamo parte integrante dei principali programmi sportivi sia sia sulla rai che su sky una rubrica che ha a che fare il cui nome ha a che fare con qualcosa che non si crea piuttosto si distrugge si distrugge l'oggetto del calcio ecco mettiamola così va bene dai raga non ce la faccio più ospite stasera ore 21 con diretta live su instagram di milan inside talk ragazzi gene gnocchi gene gnocchi ragazzi un artista un artista di livelli altissimi peccato che non ci riuscirò ad essere io nonostante 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 insomma l'ho contattato ma sono a parte straconvinto che sia debora che denis che parteciperanno alla live faranno ampiamente e in maniera egregia il loro lavoro raga ma un colpo questo è come se dovessimo trasportarlo nell'ambito del mercato è come se milan acquistasse che ne so blaovic per dire un colpo top 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 verrebbe da fare la faccia così mamma mia raga appuntamento allora stasera con milan inside talk ore 21 su instagram ospite di milan inside talk gene gnocchi raga ne vedremo delle belle si parlerà della champions si parlerà di milan sassuolo si parlerà del personaggio di gene gnocchi dell'artista dei suoi programmi dei suoi progetti ma raga siamo siamo euforici io vi ringrazio per l'ascolto vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video e di seguire la live stasera iscrivetevi al canale attivate la campanellina e in descrizione tutti i link dei profili social di milan inside e quello personale per seguirmi e vi ricordo il sito internet www.cmilaninside.com raga che ospite che ospite stasera ciao ragazzi sempre forza mia ciao 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 ciao